Grande spettacolo a Maggiora Off-Road Arena. Non è mancato davvero niente in questo classico appuntamento di Pasqua e Pasquetta a Maggiora Off-Road Arena, per il round 2 del campionato italiano Rally Cross. Un bel sole, tanti i piloti erano quasi 150, compresi quelli del campionato svizzero di autocross. Un buon pubblico e grande spettacolo in entrambi i giorni di gara, grazie anche ai numerosi duelli e ai molti sorpassi. Nella categoria RX-5, una delle più spettacolari per l'alto numero di duelli e per il grande equilibrio tra le prestazioni dei piloti in gara, la vittoria è andata al debuttante su questo tipo di vettura, Werner Gussler. L'altuatesino è riuscito a trovare subito il feeling giusto con la sua Skoda Fabia, dimostrandosi performante già nelle Q e andando a vincere la finale con il tempo di 4 primi, 49 e 619 sui 6 giri previsti. La gara è andata molto bene, per la prima volta con un R5 ho fatto questa gara, tutte le hit sono andate bene e il finale è andato molto bene. Io sono contento, anche contento con la macchina che mi hanno preparato, Colombi e anche il mio meccanico deve, grazie a dire, perché quando lui non c'è, il mio manager non deve fare queste gare. Grazie per tutto, grazie per la giornata e grazie. In seconda posizione è arrivato un altro esordiente di lusso, il patron di Maggiora Park, la pista sorella di Maggiora Offroad Arena, che ospiterà il 7 e l'8 di maggio il Mondiale di Motocross, Stefano Avandero, anche lui al volante di Skoda Fabia. In terza posizione è giunto il pilota imprenditore Maurizio Rossi, che con la sua Hyundai i20 è stato capace di conquistare il terzo gradino del podio, nonostante fosse anche lui al debutto su questo tipo di vetture. Il comando della classifica generale è ancora però in mano saldamente a Gian Maria Gabbiani, quarto nel round 2 con la sua Skoda Fabia. Tra le supercar la vittoria è andata a The Professor Michele Andolina, che ha chiuso in cinque primi 23.769 al volante della sua Fiat Grande Punto, davanti a Rosario Corallo, che mantiene il comando della classifica generale con la sua Subaru Impreza. Dominio con tre vittorie su 4Q e la vittoria finale per il vice campione della Super 1600 Paolo Popi Barbieri, che con la sua Citroen C2 ha cambiato categoria, ora è nella STC Min 1600, ed ha subito trovato il giusto setup della sua vettura. Cinque primi 10.605 il tempo finale di Barbieri, che ha preceduto Marco Valsesia e Daniele Delfino, entrambi al volante di una Citroen Sassu. Rimasto senza l'unico avversario con la macchina della sua stessa categoria, Armando Tocchio, Marco Valazza, al volante della sua Fida Ford Fiesta, ha vinto comodamente la classifica finale della categoria mista Super 1600 STC, con il tempo di 5 primi 18.925, davanti al pilota della Citroen AX Marco Nicolini, primo nella STC 2000, e ad Arianna Corallo, al volante di una Opel Astra STC 2000. Ancora una volta, la categoria Kart Cross è stata altamente spettacolare. Grande la prestazione di Christian Tiramani. Il pilota del Planet Kart Cross K3 ha effettuato un'ottima partenza nella battagliatissima finale, conquistando la prima posizione alla staccata della prima curva per non lasciarla più. Quattro primi 41 e 383, il tempo finale del driver piacentino. La gara è andata molto bene, non ci aspettavamo la vittoria, però era quella che volevamo per recuperare in campionato, data la disavventura in Sardegna. Sapevamo di essere competitivi dopo i test, ma non così tanto, però siamo molto soddisfatti di quello che abbiamo potuto fare, l'abbiamo fatto. In finale siamo partiti davanti, siamo sempre stati davanti, ci siamo difesi bene e finalmente è arrivata anche la vittoria nel campionato italiano rallycross. Molto contento e ci vediamo alla prossima. Che ha preceduto Michael Giacomotti al debutto quest'anno con il suo Planet Kart Cross K3 e il vincitore del round 1 Marcello Gallo, che comunque mantiene il comando della classifica generale con il suo Life Live TN5. Il campionato italiano rallycross ritornerà a maggio, sempre sulle dolci colline novaresi che ospitano l'impianto di Maggiora Off-Road Arena. Il round 3, organizzato ancora una volta dal promoter del campionato, lo sport club Maggiora, vedrà però sfidarsi i piloti sul tracciato in conformazione reverse.